La BCC di Sassano spalanca le porte di tutte le sue sedi e filiali all'Associazione Italiana Contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma in occasione della Pasqua e della tradizionale campagna di solidarietà che ha il portavante anche in questo 2016 con la vendita delle uova di Pasqua. Fino a martedì 15 marzo nelle sedi filiali di Sassano, Sala Consilina 1 e 2, Polla e Tito della BCC di Sassano è ancora possibile dare il proprio contributo al finanziamento di progetti di ricerca e al potenziamento dei servizi di assistenza per i malati ematologici. Pasqua rappresenta infatti per l'AIL un appuntamento fondamentale e ormai consueto per finanziare la ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e la BCC di Sassano non ha voluto perdere l'occasione di trasformare le uova dell'AIL in un grande simbolo di solidarietà. I fondi raccolti grazie all'iniziativa aggiunta alla ventitresima edizione saranno utilizzati per sostenere la ricerca scientifica, per finanziare il gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto, cui fanno capo oltre 150 centri di ematologia, per collaborare al servizio di assistenza domiciliare, per realizzare case alloggio nei pressi dei centri di terapia e per realizzare sale gioco e scuole in ospedale. Insomma, tanti ottimi motivi per recarsi fino a martedì prossimo nelle sedi filiali della BCC di Sassano e versare un contributo minimo associativo di 12 euro, ricevendo in cambio l'uovo di cioccolato dell'AIL, ma soprattutto donando alle tante persone colpite da malattie ematologiche la sorpresa più bella, la speranza. La BCC di Sassano vuole essere sempre presente a queste iniziative che riguardano la solidarietà. Sono aperte tutte le filiali della BCC di Sassano, di Sala Consilina, di Polla, di Tito. Quindi io rivolgo un invito a tutti i soci e i clienti della banca affinché si recano presso le filiali per l'acquisto dell'uovo di cioccolata dell'AIL, perché in questo modo nel nostro piccolo possiamo contribuire a dare una speranza a tanti pazienti che ne hanno bisogno.